Se siamo arrivati a questo punto è perché così non si può più lavorare, c'è bisogno di fare opere, grandi opere, a partire dalla TAV che è stata forse l'ultima goccia. Troppi no. La TAV è stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso dell'alleanza Lega Movimento 5 Stelle. La comasca Alessandra Locatelli, ministro della famiglia e della disabilità, lancia la corsa della Lega alle elezioni. È arrivato il momento ed è giusto così perché la Lega ha dimostrato grande forza di volontà e si è messa a lavorare da subito per dare un po' di speranza a questo Paese. Quindi forse è arrivato il momento giusto per cercare di dare una svolta definitiva, vogliamo andare al voto, il prima possibile, non c'è tempo da perdere. Stiamo lavorando tutti i giorni perché appunto i ministri siano tra la gente e non dietro le scrivanie a scrivere fogli inutili e quindi ci aspettiamo che ci sia questa possibilità per gli italiani, scegliere chi vogliono che governi questo Paese. Correrete da soli? Certo, sicuramente la Lega ha intenzione a dei progetti che vuole portare avanti, chi li vorrà seguire lo deciderà il segretario federale Matteo Salvini nel quale abbiamo piena fiducia visto che è l'unico politico che ha dato una svolta storica al nostro Paese. In tema di possibili alleanze, il parlamentare lariano di Fratelli d'Italia, Alessio Butti, tende una mano. Siamo l'unico partito che cresce, dice. Gli ultimi sondaggi Ipsos ci accreditano al 7,5%. Sono percentuali che permetterebbero eventualmente un'intesa sovranista e conservatrice con la Lega, sufficiente per dare un governo al Paese che duri un'intera legislatura, come chiedono cittadini, imprese e mondo del lavoro. Per Butti era, se non scontato, sicuramente prevedibile che l'accordo Lega 5 Stelle saltasse. E sul rapporto tra le due forze di governo, il sottosegretario all'interno, il leghista Canturino Nicola Molteni, è decisamente netto. L'Italia, dice, ha bisogno di crescere, al nostro Paese servono infrastrutture e investimenti. A causa dei ripetuti no del Movimento 5 Stelle rischiamo la paralisi e l'immobilismo, ma noi non lo consentiremo. Gli italiani, conclude Molteni, ci chiedono un governo capace di esprimersi in modo coraggioso e univoco, ci chiedono di tornare presto al voto e noi non intendiamo far perdere altro tempo. Sulla crisi di governo interviene anche il deputato Comasco del Movimento 5 Stelle Giovanni Currò, con un duro affondo nei confronti di Salvini. Il passaggio istituzionale voluto dal ministro dell'Interno, dice, deve svolgersi davanti ai parlamentari perché questa non è la Repubblica di Salvini. Inoltre, il ministro dell'Interno deve spiegare in aula le ragioni della crisi. Non è accettabile che venga svilitto l'operato del governo. Ad oggi ne fa parte anche Salvini. Non è stato il governo dei no, conclude Currò, e non eravamo in spiaggia. Che questo governo fosse arrivato alla fine si era capito da mesi, attacca la parlamentare Comasca del PD Chiara Braga. L'Italia, da un anno e mezzo, è peggiorata in ogni settore per colpa di un governo dannoso. L'Italia, da un anno e mezzo, è peggiorata in ogni settimana.